Musica Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Ora incontriamo nuovamente Fra Roberto Brunelli, frate minore conventuale dell'Italia centrale. Pace bene e bentrovato. Pace bene a voi. Grazie per essere con noi anche questa settimana. Continuiamo a parlare del tuo libro dedicato a San Giuseppe da copertino e lo vedemmo volare. Allora, Fra Roberto, raccontami qualcosa della vita di questo grande santo. Ecco, cercando di essere sintetici, San Giuseppe nasce nel 1603 a copertino da una famiglia poverissima. Il padre era addirittura fuggito di casa per i debiti, quindi è la madre a tirarlo su. Poi da bambino si ammala e per lunghi anni deve stare a letto perché ha un tumore canceroso che lo tiene bloccato. E quindi passa il tempo con la mamma che è una terziaria francescana che gli racconta la vita di San Francesco. E anche uno zio è un francescano e quindi vive in questo clima, sente spesso parlare della vita di Assisi e di San Francesco. È un po' imbranato, quindi tenta di fare diversi lavori ma non riesce. Probabilmente vedeva anche poco e quindi desidera di diventare religioso, cerca di entrare in diverse comunità ma non gli riesce. Poi alla fine, per misericordia, per grazia, per insistenza, viene accolto nel convento della Grottella da un sacrestano misericordioso che lo nasconde. Il convento della Grottella, scusami, è a copertino. Sempre a copertino, siamo sempre in provincia di Lecce. Siamo sempre a copertino. Alla fine riesce a entrare, studia, come dicevamo la volta scorsa, riesce ad accedere al sacerdozio per dei miracoli, per delle grazie che lo fanno diventare patrono degli studenti, appunto perché nel momento del bisogno viene aiutato da Dio e gli fanno la domanda giusta, insomma, al momento giusto. L'unica magari che sa. E poi cosa succede? Inizia a vivere spiritualmente. C'è un episodio simpatico, innoviziato, un confratello gli dice, tu non sei buono né per la vita pratica, perché sei un po' imbranato, né per la vita spirituale. E lui gli dice, ma che cos'è la vita spirituale? Dice, era così ingenuo. E l'altro gli dice, significa andare un po' prima in preghiera, finire un po' dopo, fare un po' di digiuno, un po' di penitenza. E lui si mette a fare queste cose. E diventa spirituale. Tanto che iniziano i primi fenomeni mistici, le prime estasi, lui quindi rimane così impalato, fermo, estatico, fisso. E poi iniziano i primi voli, dopo il sacerdozio, dopo che viene ordinato sacerdote, credo che il primo sia durante la professione di una suora, dentro la chiesa delle clarisse di Copertino, lui fa un grido e vola sopra il pulpito. E la gente lì è sterrefatta di fronte a centinaia di persone. Continua la vita a Copertino, in questi anni, piena di miracoli, di estasi, di semplicità, e di voli estatici, spesso di fronte a tutti. È interessante vedere come nei diversi voli a volte capita la stessa fenomenologia. Quindi quando lui fa un volo anche di parecchi metri, 10 o 15 metri, precedentemente dà un grido forte, poi parte e si appoggia estatico a una mensola, magari sotto un'immagine sacra, e lì rimane statico. Si sveglia sempre quando arriva il superiore a chiamarlo. Poi rivola indietro, o a volte come in questo caso non sa come scendere, devono andare o a prendere la scala, o è lui che scende piano piano. Poi quando scende si stropiccia gli occhi, come se si svegliasse da un sonno. Poi si cala il cappuccio e scappa via. Ecco, l'umiltà, ecco, come dire, il sentirsi indegno di aver avuto questi fenomeni anche di fronte ai fratelli. Ecco, hai detto una parola chiave che mi suggerisce la prossima domanda, umiltà. Siamo a San Giovanni Rotondo, dove sono custodite le spoglie di San Pio. Hai avuto modo di notare dei punti di contatto tra la vita di San Giuseppe da Copertino e quella di San Pio? Ecco, prima di tutto, se mi permetti, io voglio ringraziare San Pio, visto che sono qui nella sua televisione. 20 anni fa, più o meno in questo periodo, facevo la mia professione solenne ad Urbino, insieme con un confratello. Mentre mi avvio all'altare, il momento della professione solenne è il momento in cui tu fai definitivamente i voti di povertà, castietà e obbedienza. Quindi è come un matrimonio, diciamo, soltanto che ti sposi con il Dio invisibile. Eppure concretissimo, come è stato concreto in quella sera. E mi ricordo che mentre andavo all'altare, mentre stavo per iniziare la messa, chiedo a Dio la grazia. Dice, adesso io mi sposo con te, che sei invisibile. E poi Padre Pio era stato beatificato da pochi giorni e quindi l'avevo inserito nelle litanie che si fanno durante questo rito, come beato. E poi chiesi a Padre Pio, dice, adesso stiamo per diventare confratelli, siamo francescani tutti e due. Quindi chiesi così, in semplicità, una grazia a Padre Pio e devo dire che l'ha fatta lo stesso giorno. Ecco, attraverso, ecco, non posso entrare nei particolari perché sono questioni private, come dire, ecco. Però diciamo che Padre Pio si è manifestato attraverso il profumo ad una persona che doveva convertirsi, come ci dobbiamo convertire tutti d'altronde. E questa persona, che non sapeva assolutamente della mia preghiera, del mio desiderio, in quell'occasione fu colpita da Padre Pio, trovò un santino e poi sentì un'esplosione di profumo, come mi raccontò due mesi dopo, alcuni mesi dopo. E da quel momento cambiò vita questa persona, per cui devo dire grazie a Padre Pio, visto che sono qui. E ecco, parlavamo di profumo. Esatto, quindi già un punto di contatto. Un punto di contatto con San Giuseppe da Copertino perché anche lui aveva questo fenomeno. Racconta qui il biografo, raccontano i testimoni. Ecco, soprattutto al Sacro Convento riuscivano a trovare la stanza dove era sentendo il profumo che emanava. Oppure gli oggetti che gli erano appartenuti per mesi e mesi conservavano un profumo paradisiaco. Ecco, ognuno dopo lo descrive in vari modi, però è un profumo soprannaturale. Questo è uno dei punti di contatto. L'altro punto di contatto è quello della bilocazione. Quindi sono attestate all'incirca due bilocazioni di quelle conosciute. Una la madre mentre sta per morire e poi una persona sempre, mentre lui è ad Assisi, compare a Copertino, ecco, in bilocazione. Quindi c'è almeno questi due fenomeni, oltre naturalmente tutte le virtù cristiane, l'amore a Dio naturalmente. Bello, bello scoprire anche attraverso la tua testimonianza e le tue parole, quello che unisce un po' a comuna questi due grandi santi. San Giuseppe da Copertino è nato a Copertino, quindi originario è pugliese, però dove sono custodite le sue spoglie mortali? Dove è sepolto? Ecco, San Giuseppe da Copertino è pugliese, come dicevamo prima, il primo periodo della vita lo passa a Copertino, pieno di estasi, di miracoli. Poi a un certo punto il provinciale gli dice, pensa tra sé, abbiamo un frate santo, gli altri non erano magari tutti santi. Adesso voglio farlo girare per tutta la Puglia, perché lo conoscano, perché sia di esempio. Questo da una parte lo fa conoscere tutta la Puglia, dall'altra parte succede un episodio per cui è arrivato a Giovinazzo, alcuni sacerdoti dicono ma un frate non si mette, un santo non si mette in mostra. Non sapevano che lui andava nelle chiese sotto l'obbedienza del superiore, quindi doveva obbedire al superiore. Per cui per questa serie di malintesi scatta una denuncia all'inquisizione e lui deve andare a Napoli a fare il processo. Volerà di fronte all'inquisizione nella chiesa di San Gregorio Armeno e gli inquisitori vedono che lui è un frate semplice, obbediente, umile, quindi lo assolvono, condannano il provinciale che ha mal gestito questo francescano e gli dicono è meglio che non ritorni in Puglia perché è stato gestito male, lo mandiamo ad Assisi. Quindi lui per 13 anni starà ad Assisi e questo è provvidenziale perché come padre Pio dell'epoca incontrerà i personaggi più famosi dell'epoca, andranno da lui appunto perché aveva anche questi doni della profezia come padre Pio o della lettura della coscienza, quindi sarà un punto di riferimento per tutta l'Europa. Principi, cardinali, vescovi cercheranno di parlare con lui. Poi l'ultimo periodo viene trasferito nelle Marche per evitare ancora il fanatismo o la troppa esposizione gli ultimi dieci anni vivrà prima a Pietrarubbia tre mesi, poi tre anni e mezzo a Fossombrone proprio in un convento di Cappuccini, poi ritornerà ad Osimo gli ultimi sei anni e lì morirà e lì è sepolto ed è onorato come padrone degli studenti, ma è molto onorato soprattutto anche a Copertino quando c'è la sua festa. Sì, certo. Ecco perché forse si è anche un po' innamorato di questa figura, l'hai in casa, anche per questo. Sì, è providenzialmente arrivato da noi per aiutarci. Ecco, così. Allora, io ricordo il titolo del libro scritto da Fra Roberto Brunelli e lo vedemmo volare La vera vita di San Giuseppe da Copertino, ricordo, che è stato edito il libro da Centro Missionario Francescano Guerrino Leardini e per informazioni mi dicevi bisogna scrivere una mail a La Perla Preziosa, chiocciolalibero.it, perché il libro non si trova nelle librerie, quindi bisogna ordinarlo da noi. Benissimo, quindi La Perla Preziosa, chiocciolalibero.it. Grazie a Fra Roberto Brunelli per essere stato con noi in queste due puntate speciali che abbiamo voluto dedicare a San Giuseppe da Copertino. Grazie a te. Ancora, pace e bene a te e a tutti coloro che ci seguono. A tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti.